cari amici cari colleghi consiglieri di libre italia e membri di the document foundation cari appassionati tutti di software libero e di open source un carissimo saluto da andrea cartotto questo saluto ve lo porto come potete vedere dall'auto poiché anche oggi mi trovo eccezione fatta per l'abito più tra virgolette borghese meno istituzionale del solito impegnato al lavoro non mi è stato possibile ahimè recuperare insomma dei giorni utili di ferie di permesso per essere con voi come avrei desiderato in presenza nel meraviglioso luogo in cui vi trovate però ecco credo che sia doveroso sia per il mio ruolo di consigliere in libre italia con un focus naturalmente sulla scuola che insomma proprio per l'avvicinanza alla comunità portare ugualmente il mio salute il mio intervento con le modalità digitali vi devo dire che insomma la libre italia conf di quest'anno è una libre italia conf particolare particolare perché si svolge in presenza e online perché so benissimo e do merito al presidente neo gemmo a tutti i consiglieri per il lavoro enorme curato che è stato fatto di cui in realtà non ho meriti se non quello di aver ahimè nei limiti del tempo concessomi dal lavoro dall'insegnamento dai corsi aver seguito e aver apprezzato e approvato l'impegno e la costanza di tutti gli amici e colleghi consiglieri ma anche di tutti noi che semplicemente perché crediamo in una finalità ed in un obiettivo comune collettivo appunto investiamo il nostro tempo per fare cosa per raccontarci come parlare di software libero nel mio caso con riferimento alla scuola e all'istruzione sia una sorta di dovere civico ma sia soprattutto l'intento di aprire la mente ai colleghi quindi a docenti alla dirigenza scolastiche alle segreterie didattiche agli alunni e alle famiglie nella scuola il software libero è un tema importante a volte non trattato come dovrebbe eppure vi dico che ci sono dei casi virtuosi io stesso sulla rivista del centro studi ericsson sul tema media education la rivista med nel 2017 in tempi ben pre pandemia ho pubblicato una buona pratica su un corso per l'uso didattico di libre office che ho tenuto e progettato a 20 miglia l'estremo ponente ligure oppure ancora in questo momento in questi tempi ho iniziato un'attività didattica con gli alunni delle scuole medie secondaria di primo grado un intero modulo pon quindi un'attività didattica di 30 ore finanziata dal fondo sociale europeo basata sulla didattica digitale con un forte accento sul software libero ecco a volte occorre anche ritagliare le occasioni per parlare di software libero di didattica digitale con il software libero anche laddove magari pare che queste non vi siano il software libero nella scuola può essere tranquillamente il sistema operativo quindi una integrazione un affiancamento e magari in tali casi una sostituzione del sistema operativo proprietario windows con una qualunque delle distro di linux penso a ubuntu penso a zorino s penso a tanti casi ed ambiti di applicazione dove dobbiamo essere noi ad indirizzare in maniera graduale accurata senza ergerci al di sopra delle parti e di qualcuno senza entrare in conflitto senza generare contrasti senza pensare di essere i più bravi e i più belli e solo con l'esempio con la gradualità accettando tranquillamente alcune convivenze tra software proprietario software semplicemente free e software open source che possiamo mostrare esempi di utilizzo ricadute nella nostra vita comune ecco per dirvi open board è un eccellente software open che ci consente di utilizzare una lavagna digitale in presenza e a distanza libre office è il meraviglioso applicativo che tutti conosciamo per la videoscrittura per realizzare un foglio di calcolo per impaginare penso ancora a tutta la famiglia dei software tux per la scuola primaria tux paint tux math quindi giochi matematici disegno penso ancora al grande gimp o gimp che dir si voglia in funzione delle correnti di pensiero per la fotografia digitale penso ancora a scribus a inkscape per realizzare il giornalino di classe per quanto in realtà sia sufficiente l'applicativo interno a libre office che è draw che tra parentesi un applicativo eccellente per aprire e editare cioè modificare anche i file pdf che possiamo aver realizzato come nostro materiale in italia ricordiamoci che è vigente questo è un tema su cui riflettere il codice dell'amministrazione digitale il cosiddetto cad che negli articoli in particolar modo 68 e 69 ci parla di che cosa gli articoli 68 e 69 ci dicono che le pubbliche amministrazioni scuola compresa debbono preferire soluzioni di riuso del codice soluzioni soluzioni dicevo che consentano di preferire preferire attenzione bene facendo la valutazione comparativa che non è materia da tecnici è materia che si può trattare informandosi leggendo studiando e documentandosi ebbene io preferisco il software libero e dunque sono adempiente non è un gusto prendiamo ancora il caso della didattica a distanza e non solo sappiamo benissimo che molte istituzioni scolastiche utilizzano applicativi proprietari sappiamo ma se non lo sappiamo vi racconto con piacere che ci sono sentenze europee come la sentenza schrems e la sentenza schrems 2 che ci dicono in realtà che occorre prestare la massima attenzione a dove finiscano i nostri dati e i dati dei minori dunque se anche concettualmente io potrei accettare taluni compromessi nell'utilizzo di big g cioè del colosso google perché sto utilizzando uno smartphone con sistema operativo android con account google e così via e per uso privato tutto sommato è mia responsabilità sapere a quali compromessi o vada incontro nella scuola bisogna uscire dalla mentalità che più tu sia grande più tu sia bravo o affidabile semmai più tu sei grande più tu puoi essere diffuso ma la diffusione ce l'ha anche il software libero e come è che queste gocce in un grande mare di utilizzo virtuoso del software libero si devono unire al punto da formare un lago al punto di essere a loro volta un mare pulito etico digitalmente ed educativamente corretto per minori e per adulti è in questa direzione che dobbiamo andare ma ripeto il lavoro deve essere costante dobbiamo mettere in conto che ahimè i tempi della pandemia che ci hanno fatto scoprire l'importanza vitale della rete del digitale non ci hanno resi migliori anzi in qualche caso fortunatamente non tantissimi però formando i colleghi di tutta italia sulla didattica digitale ora integrata la chiama al ministero con questo aggettivo vi dico che in realtà ecco anche in questi frangenti c'è chi magari si è servito di soluzioni penso a big blue button penso a gizzi mit penso a tante soluzioni per la didattica sincrona eccellenti ed efficaci e poi magari ha pensato vabbè ma scherzavo ora torno ad un altro tipo di utilizzo chi vi parla è anche ambassador di una versione interamente personalizzata e rivisitata in italia da una fondazione che si chiama fondazione franchi di big blue button il cui nome è hub hub ci sono moltissime scuole d'italia che lo la usano usano hub se la declino al femminile come applicazione unica per la didattica per il collegio dei docenti per il consiglio di classe per lo sportello psicologico perché hai maggiori garanzie in termini di privacy e di qualità rispetto magari dei software proprietari certo tutto dipende anche dal server cioè dalla scatola che ospita il tuo prodotto che tu stai utilizzando potrai non essere il server il server di google ma in realtà possiamo ed è possibile predisporre con facilità ripeto non sempre si tratta di competenze da tecnici ma si tratta di competenze digitali da cittadini possiamo fare la differenza come partendo dal poco con il nostro esempio spiegando in maniera chiara come libre italia fa tramite la nostra attività quali siano i comportamenti virtuosi da seguire dobbiamo metterci al fianco al fianco dell'istituzione scolastica al fianco di un amico al fianco di un dirigente al fianco di un alunno e mostrare gli aspetti positivi ed educativi di ciò che stiamo utilizzando e allora che usciamo dalla logica del prodotto ed entriamo invece in quella che deve essere la logica di una sana e corretta educazione digitale questo è quello che fa libre italia questo è quello che fa the documents foundation di cui sono con onore membro italiano insieme a tanti altri amici che sono qui e che parleranno quest'oggi e l'occasione dunque della libre italia conference a cui ripeto mi dispiace molto non prendere parte è quella di farci entrare in contatto farci fare rete e farci capire che uno non siamo soli due parliamo di argomenti di stretta attualità per il nostro paese per il sistema paese e tre che non stiamo parlando in informatichese che non stiamo parlando con tecnicismi ma che cerchiamo di far capire ad esempio e so che in questo senso sfondo una porta aperta con l'amico italo vignoli e non solo che se noi salviamo un banalissimo apro le virgolette documento in un formato odt open document text perché un documento di video scrittura ed evito di salvare in un formato proprietario doc x o altro in realtà sto preservando l'integrità la durevolezza la condivisibilità e la conservazione nel tempo di un dato di un ricordo di qualcosa di importante il digitale è ormai parte integrante della nostra vita ed è questo l'assioma ragionamento che dobbiamo mettere davanti ai nostri occhi per poi da lì continuare ad incamminarci su questa strada ciao a tutti buon lavoro buona libre italia conf salute i colleghi che si sono alternati nei panels precedenti che si alterneranno a quelli successivi ai miei ciao presidente neo gemmo ciao cari amici consiglieri e ciao a tutti voi che mi state vedendo ed ascoltando in questa veste red